Pasqua rossa, cittadini tutto sommato disciplinati nell'area metropolitana Chieti-Pescara, nonostante i controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine. Certo, le eccezioni non mancano. I carabinieri di Pescara hanno eseguito 500 controlli e contravvenzionato più di 30 persone. Inoltre c'è stato un arresto per maltrattamenti in famiglia. Una donna, dopo l'ennesima lite col compagno, si è rivolta ai carabinieri, stanca della situazione. Le violenze domestiche con la pandemia sono aumentate. Festa di Pasqua in casa con 30 persone, ma arriva la polizia. È accaduto ai colli di Pescara, un cittadino fa scattare il blitz e in tutta la provincia altre 34 multe, chiuso anche un negozio. Ma ascoltiamo i sindaci di Pescara e Chieti, Carlo Masci e Diego Ferrara. Sì, i controlli sono stati serrati perché l'apparato predisposto dal Comitato per la Sicurezza ha funzionato molto. La città è stata tutta controllata, però mi sembra che non ci siano stati particolari episodi da segnalare. Qualche contravvenzione c'è stata perché ci sono sempre i soliti furbi che arrivano in città anche se non possono muoversi, che non si comportano secondo le regole. Noi continuiamo a dire distanziamento, mascherine e pulizia. Oramai lo diciamo da un anno, c'è ancora chi non l'ha capito e quindi viene sanzionato. Mi sembra però che in generale i pescaresi in questo weekend pasquale si siano comportati bene. Mi auguro che continuino a farlo perché adesso con le vaccinazioni che sono cominciate a ritmo serrato e con la bella stagione dovremmo vedere una diminuzione notevole dei contagi come già sta avvenendo perché Pescara oggi è la città che ha meno contagi in Abruzzo sia come città che come provincia. Questo avviene perché evidentemente le azioni e le misure che abbiamo messo in campo in questi mesi hanno funzionato e hanno bloccato la variante inglese che era entrata prepotentemente nella nostra città come prima in Italia. I miei concittadini sono stati bravissimi, non è stata elevata nessuna multa da parte della Polizia Urbana così come i controlli delle forze dell'ordine hanno determinato una perfetta normalità. Anch'io ho ieri e l'altro ieri ho girato la città per lustrarla e devo dire che lungo il corso Marruccino e le strade adiacenti non c'era nessuno, qualche mamma col carrozzino alla villa comunale ma è perfettamente comprensibile. D'altronde c'è da dire che grazie anche a questa autodisciplina i numeri dei contagi a Chieti città sono in diminuzione da ben 5 settimane. Abbiamo avuto nella settimana santa 62 casi in totale con una incidenza di 123 casi su 100.000 abitanti quindi ben al di sotto del valore soglia di pericolosità.